Mentre l'amore resta un punto interrogativo da chiarire ancora definitivamente, c'è una grande certezza nel vita di Belen Rodriguez. Anzi due. E si tratta dei figli Santiago, otto anni, avuto dal conduttore Stefano De Martino, e Luna Marie, dieci mesi, nata dall'amore per l'ex compagno Antonino Spinalbese. Un amore prezioso al punto che la showgirl decide di dedicare ai bambini un vero e proprio gioiello, ovvero una collana da portare sempre con sé. Color oro, la collanina ha due ciondoli a forma di bimbo, uno è una femminuccia e l'altro è un maschietto. Una è Luna Marie e l'altro è appunto il primo genito Santiago. Santi Ypsilon Luna, scrive la modella argentina nella didascalia. Una scelta di look apprezzata dai follower, che premiano lo scatto con circa 40.000 like. Hai due diamanti, anche io ne ho una uguale, scrive un'altra mamma. Non si tratta di una sponsorizzazione, questa volta, perché nel post non vi attaga ad alcun brand. Poco dopo, Belù condivide una foto del primo piano della sua piccolina a spasso. La somiglianza con Antonino è lampante. E pensare che, proprio qualche mese fa, Antonino stesso ha dedicato un gioiello alla figlia, proprio come ha fatto Belen, in quel caso, si trattava di un anello in cui era inciso il nome della bambina. Una fede, a sugellare simbolicamente un amore che durerà per sempre. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un commento e iscrivetevi al canale per altri episodi. Grazie. 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 Grazie.